Allora, a questo punto abbiamo due speaker, Fabio Mosconi e Simone Crevenna di Security Lab. Vedevo quattro persone che arrivavano e sono quattro, non so più due. Allora, esatto, è una tecnica. Allora, abbiamo due talk, uno di Fabio e uno di Simone. Facciamo partire direttamente il televoto, via le operazioni del televoto, che è già partito. Fabio ci dice perché dovrebbero scegliere il suo talk e Simone perché dovrebbero invece... Mi sa che è spento. Vorrei darvi nel mio speaker informazioni aggiuntive su come poter raggiungere automation, orchestration, servizi mediali, quindi per chi già lo ha in casa e quindi prendere delle informazioni e portarle al suo interno o far vedere come opera la nostra realtà e quindi, diciamo, dare uno spunto su come e cosa c'è al di fuori, diciamo, del classico modello basato su SIEM. Poi vedremo al limite, nel caso, il dettaglio. Il fattor comune è sempre servizi MDR. Io invece cercherò di darvi un po' un aspetto più di sales, commerciale, perché i clienti hanno bisogno di questo tipo di servizio e quant'altro. La musica è finita e mi sa che... Gli amici se ne vanno. ...che Simone, come si dice a Napoli... Buon proseguimento. Buongiorno a tutti. Sono Simone Cravenna, Sales Manager di Security Lab. Oggi volevo cercare di darvi un po' evidenza di come oggi la nostra esperienza sulla parte di servizi MDR e che tipo di approccio abbiamo. Oggi molte aziende sono bombardate da una serie di acronimi e ho molte aziende, clienti, che mi contattano e mi chiedono ma cosa vuol dire questo acronimo, cosa vuol dire quell'altro, ho bisogno veramente di questo, EDR, XDR, SIEM, insomma, se ne vivono un po' di tutti i colori. Chiaramente non ho la risposta esatta per i nostri clienti né per le aziende di mercato. Quello che sicuramente vi posso raccontare è un po' la nostra esperienza. Oggi abbiamo visto che molti clienti... Noi siamo un'azienda fortemente focalizzata sui servizi MDR, è il nostro cuore tutti i giorni. Ogni giorno andiamo a fare questo e i miei colleghi tecnici si occupano di questo. Abbiamo visto che molte aziende hanno fatto investimenti in cyber security. Oggi la cyber security è un asset che tutte le aziende fortunatamente stanno approcciando e gestendo. Quello che però abbiamo visto, i clienti e molte aziende mi dicono, è che hanno fatto investimenti molto sulla tecnologia. E va benissimo, questo è un primo step che può essere utile per partire. Queste tecnologie però, sentivo anche altri speech di altri colleghi, per utilizzare anche un termine che ho già sentito, sono molto chiaccherone, parlano molto. E quindi arriviamo a molte aziende, a molti clienti che iniziano a dirmi, sì ma io non riesco a capire esattamente da dove sta arrivando l'allarme, che cosa sta succedendo. Non riesco a farle parlare tra di loro e quant'altro. Quindi il nostro approccio è un po' quello, tra virgolette, un po' agnostico, di venire da nostri clienti, andare sul mercato e proporre un servizio MDR che in questo momento possa dare valore già agli investimenti fatti dal cliente su una serie di tecnologie e cercare di farle parlare tra di loro e cercare di dare un ecosistema che possa dare del valore. Volevo farvi vedere questa slide, adesso non so quanto vedete la parte in piccolino, però ve la racconto velocemente. È uno studio che ha fatto Garner su Lifecycle, quindi fondamentalmente è valutare le tecnologie che oggi sono presenti sul mercato, che stanno arrivando e quant'altro. Quindi come vedete ci sono una serie di tecnologie sulla parte sinistra di questa slide che stanno crescendo, fino ad arrivare alla parte di hype totale, quindi il massimo interesse che clienti, mercato hanno. Poi le tecnologie subiscono un calo, la curva va scendendo. Questo perché le tecnologie possono iniziare ad avere qualche problematica tecnica, clienti che iniziano a fare lo stesso mestiere, piuttosto che altri clienti che mi hanno anche detto ma questa tecnologia non è troppo innovativa per il mio tipo di approccio e quant'altro, fino ad arrivare alla parte bassa, per poi come vedete risalire verso un plateau, viene definito, quindi una stabilizzazione, vuol dire che in questo caso la tecnologia è abbastanza matura. Perché? Perché molti clienti hanno iniziato a utilizzarla, molti clienti hanno iniziato a gestirsela, le aziende le comprano e quant'altro. Quello dove volevo porre l'attenzione è la parte in alto, che non so se si vede, ma vedete quel puntino evidenziato è XDR. Perché XDR? Perché come vi dicevo prima, il fatto che molti clienti ci dicano che effettivamente hanno una serie di tecnologie ma che fanno fatica a vedere il complesso di tutti questi allarmi e quant'altro è perché fondamentalmente manca la visibilità, manca l'orchestrazione di tutte queste tecnologie. Ed effettivamente le tecnologie XDR oggi ne parlano tanti, ma perché è quel concetto di estendere la visibilità il più possibile all'infrastruttura del cliente. Quindi tutto quello che può essere la parte di network, di cloud e quant'altro. Più aziende come noi che offrono servizi MDR hanno la possibilità di avere una visibilità molto ampia, più hanno la possibilità di gestire in maniera proattiva quello che potrebbe succedere sul cliente. Riprendo un po' il titolo, servizio in casa o gestito? Servizio fai da te o gestito? Molti clienti mi fanno, aziende mi chiedono, ma oggi è pensabile portarmi questo servizio in casa? Questa è una fonte di Arctic Wolf, in realtà molti di voi magari ci hanno anche provato nella loro azienda a fare questo tipo di analisi. Ci sono tutta una serie di problematiche, prima i costi, sapete quanto è difficile oggi e quanto costano gli analisti bravi, il costo di creare un'infrastruttura in azienda, il costo di gestire un H24, sono veramente poche le aziende italiane che oggi hanno la possibilità di gestire un H24 interno. Oltre a questo c'è tutta una tematica di problematiche di staff, quindi oggi molti clienti che abbiamo, che seguiamo, aziende gestiscono la parte IT e si sono ritrovati a gestirsi la parte di cyber security, quindi lo staff è sempre più limitato, gli skill, come dicevamo, non sempre è facile trovare le competenze per andare a gestire tematiche di cyber security. Oltre a questo, lo scenario che chiaramente le aziende stanno gestendo è cambiato. Oggi cosa sta succedendo? Il perimetro che le aziende devono gestire è aumentato, c'è sempre più infrastruttura da gestire, più tecnologia, abbiamo il lavoro agile, smart working, abbiamo il cloud, quindi mi rendo conto che il perimetro che le aziende devono gestire è veramente ampio ed è veramente difficile. E oggi stiamo vivendo un po' una lotta impari nei confronti degli attaccanti, pensate solo che a un attaccante gli basta una sola vulnerabilità, una misconfiguration, una porta aperta per raggiungere il proprio obiettivo. Quindi capite meglio di me che la parte di difesa deve essere fatta nella maniera corretta. Quali sono le sfide che quindi ci ritroviamo a gestire quotidianamente? Migliorare il rilevamento e la risposta. Come lo facciamo? Aumentando la visibilità. Tutto quello che vi ho raccontato un po' prima. Più il nostro servizio ha visibilità e dati da analizzare, più noi riusciamo a essere proattivi e riusciamo ad accorciare i tempi medi di reazione. Quindi la parte di response time diventa fondamentale in questi tipi di servizi. A fronte di un potenziale breach è necessario avere la visibilità e intervenire molto velocemente. MDR è un po' il nostro, come vi dicevo, cuore di tutti i giorni. Andiamo a proporlo fondamentalmente oggi su tutta la parte di mercato. Passo su questa slide che mi aiuta un po' di più. Questi sono una serie di, secondo me, valori che il servizio MDR deve offrire. Io ho molti clienti che mi dicono, sì, guarda, ho aziende che vengono, mi contattano, SOC avanzato, MDR. Quello che abbiamo visto è che però, spesso e volentieri, sono servizi di visibilità e segnalazione. Manca sempre quella R di response che può dare quel valore in più in un servizio di questo tipo. Perché se io segnalo al cliente una serie di attività da fare, ma poi spesso e volentieri, riagganciandomi a quello che dicevamo prima, poco skill, poco tempo, poche persone, poco team, vediamo che la remediation rimane sempre un po' lì e magari viene fatta giorni dopo e quant'altro. Quindi noi abbiamo fatto investimenti molto forti nell'automation. Al nostro interno abbiamo un SOAR, noi siamo un'azienda con un SOH H24, oggi è basato sulla sede di Vicina Monza, noi siamo, è la sede di Catania, è composto da 25 persone e abbiamo un SOAR al nostro interno. Il SOAR ci permette di automatizzare tutte quelle attività, è il nostro analista virtuale, è quello strumento che ci permette di automatizzare tutte quelle attività e di dare molto valore alla parte di remediation che quindi il cliente non deve fare o che comunque facciamo noi per lui. Quindi riusciamo a interagire molto via API, interfacciandoci con l'infrastruttura del cliente, cercando di andare a fare una response time in tempo. Poi è chiaro che sapete meglio di me quanto oggi le TTP, tattiche, tecniche e procedure, sono in continua evoluzione e quindi dobbiamo essere sicuramente molto aggiornati e continuamente avere la visibilità più ampia possibile. Però in questo ci aiuta che per quello che è la nostra esperienza, la parte di vettori di attacco fondamentalmente sono rimasti un po' sempre quelli, quindi la parte mail, la parte network, la parte client e server. Qui vedete una serie di acronimi, le DR e quant'altro, quindi il lato nostro è fondamentale che il cliente abbia degli DR avanzati all'interno della sua infrastruttura su client e server, abbia delle sonde NDR che mi permettono di aumentare la visibilità e soprattutto abbia della protezione della mail. Ma riagganciandomi a quello che accennavo prima, il nostro approccio è molto oggi quasi agnostico. Se il cliente ha già in casa queste tecnologie, molto spesso oggi succede, perché chiaramente hanno fatto una serie di investimenti, il nostro valore sta nel farle parlare sempre di più tra di loro e quindi tramite l'automation dare valore agli investimenti che il cliente ha già fatto. Oltre a questo, chiaramente sempre al nostro interno abbiamo una threat intelligence, threat intelligence che oggi come oggi diventa fondamentale, che ci permette di andare a fare hunting, ci permette di capire fino ad arrivare a fare magari anche attribuzione dell'attacco su quello che sta succedendo dalla parte del cliente. Andando in chiusura anche con qualche minuto di anticipo, quindi sono stato anche particolarmente bravo, quelli sono un po' i driver che cerchiamo, che ci differenziano, pensiamo e cerchiamo di proporre al cliente. La competenza, il know-how è fondamentale, i nostri analisti sono tutte persone di fascia molto alta e dobbiamo avere competenza. Come lo facciamo? Ci aiuta la parte di SOAR, il SOAR ci toglie tutto quel lavoro, fatemi definire un po' sporco, che ci permette di fare in modo che i nostri analisti si concentrino in maniera molto attenta e verticale nel momento in cui c'è veramente la necessità di guardare qualcosa sull'infrastruttura del cliente. L'intelligence, come vi dicevo, threat intelligence diventa fondamentale per andare a fare hunting, per conoscere quello che sta succedendo all'interno, a livello mondiale, sulla parte di attacchi. E infine la tecnologia. Come avete visto, io non ho parlato di tecnologia volutamente, ma questo non vuol dire che noi non la utilizziamo o comunque non la veicoliamo, assolutamente sì. La tecnologia però diventa quello strumento che ci permette di andare a vendere il nostro servizio MDR. E quindi, come vi dicevo, l'approccio è, se il cliente ha già una serie di tecnologie, noi siamo in grado di farle rendere al massimo, quindi fare in modo che l'infrastruttura del cliente abbia un ritorno dell'investimento che ha già fatto, e quindi ci poniamo in un layer un po' sopra la tecnologia. Quello che veramente vediamo oggi è proprio questo. Molti clienti hanno speso soldi, ma sulla parte tecnologica. E quello che vediamo che manca è proprio il fatto di dire manca un layer di comunicazione sopra che sia in grado di far parlare queste tecnologie che ci danno molte informazioni, ma che devono essere analizzate nella maniera corretta e nei tempi corretti. Ed è qui che noi facciamo il nostro mestiere e riusciamo a interagire con i clienti. Grazie. Se avete bisogno di altre informazioni, ci trovate al banchetto di sotto e siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazione. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie.